Mister, innanzitutto complimenti, è arrivata una sconfitta che forse non rispecchia proprio quello che abbiamo visto in campo perché il Vasso Girardi ci ha provato con tutto quello che aveva a disposizione e mancata forse un po' di freddezza, un po' di esperienza nei momenti più importanti del match Sì È difficile immaginiamo No, è difficile perché ormai sono tanti fine partita che riceviamo complimenti ma non riusciamo a portare a casa i punti necessari che ci servono quindi sicuramente siamo contenti della prestazione che abbiamo fatto perché è l'ennesima prestazione di alto livello contro una squadra importante e siamo contenti da quel punto di vista Ci dispiace per il risultato perché chiaramente se abbiamo perso 2-0 con una squadra che a memoria ha tolto i minuti finali del recupero è entrata forse quattro volte in area di rigore nostra probabilmente qualcosa dobbiamo correggere anche dal punto di vista delle disattenzioni e soprattutto il primo tempo abbiamo creato un paio di situazioni importanti e nell'unica situazione in cui il Chieti è entrato in area di rigore abbiamo fatto fallo e quindi invece di chiudere il primo tempo in vantaggio meritatamente abbiamo chiuso in svantaggio chiaramente sono situazioni che poi paghi perché non è facile comunque interpretare la partita per 90 minuti con la stessa intensità e con la stessa applicazione chiaramente nel secondo tempo andando sotto subito 2-0 abbiamo fatto una partita più difficoltosa perché il Chieti si è chiuso, si è messo tutto sotto la linea della palla e non è stato facile arrivare velocemente a cercare la conclusione e per quello abbiamo fatto un po' più di fatica a creare dei pericoli alla porta avversaria anche se poi abbiamo messo tanta pressione, abbiamo fatto passare tanti palloni in area di rigore ma non siamo mai riusciti ad avere la stoccata vincente Anche perché Iacullo sembrava aver riacceso un po' questa speranza un gol veramente bellissimo a togliere un po' di paura però poi magari cosa dovrà fare questo Valso Girardi per cercare di centrare quantomeno un play-out? Noi dobbiamo cercare di mantenere la stessa intensità la stessa applicazione che stiamo mettendo nelle ultime partite ormai praticamente da quasi tutto il girone di ritorno e allo stesso tempo evitare quei piccoli errori che ci costano poi il risultato finale perché ripeto quello che ho detto prima siamo andati sotto, al cinquantesimo stavamo 2-0 in maniera quasi inspiegabile perché con una squadra che ti entra due o tre volte in area di rigore non puoi stare sotto 2-0 dopo aver avuto delle occasioni importanti e quindi se spesso si ripetono queste situazioni dobbiamo essere un pochino più cattivi, un pochino più determinati in alcune frangenti della partita perché i primi metri, i primi 20-30 metri e gli ultimi 20-30 sono quelli che poi determinano il risultato e noi come oggi a volte non siamo in grado di raccogliere il massimo da quello che ci propone la nostra prestazione